E' tutto un fervore l'arrusso calcio del nuovo corso Antonello Musumeci. Annunciato già il primo acquisto, il difensore Parisi, ripostese doc strappato ai rivali storici del Milo, adesso nel lungo mercato estivo si attendono altri colpi, pescando tra i tanti ragazzi che ruotano nell'Interland Ionico. La società biancazzurra del presidente Pietro Romano punta non tanto alla promozione, ma quantomeno ad un campionato d'avanguardia che le possa consentire di essere protagonista. Molto probabile che il mister Antonello Musumeci peschi a piene mani anche tra gli allievi che ha guidato fino a poche settimane fa.